ciao sono giovanni e siamo a barcellona nel mio salone opera oggi vi presento thermix che è una spazio della xl e vi presenterò alcuni lavori venite con me sto utilizzando una forbice thermix che è una forbice molto precisa un'impugnatura fantastica e che aiuta molto soprattutto nel movimento il movimento del taglio che faccio e mi aiutano tanto sono veramente meravigliose e oltre a essere carini e utili questi accessori di thermix hanno un poco richiamato i colori di questa stagione 2016 la spazzola thermix xl che è il nuovo disegno spagnolo una spazzola di tre centimetri più larga e ci facilita soprattutto su questa piega che oggi andiamo a realizzare questo metodo di asciugatura praticamente te lo permette di fare solo con una thermix adesso la sua innovazione che di tre centimetri un poco più larga questo ci aiuta ancora di più a giocare un poco e tenere un poco più di capelli diciamo e la cosa ancora più carina è che la spazzola è tagliata al rombo e quindi entra il 10 per cento di più di aria e quindi in asciugatura si velocizza al più del 30 per cento questa è la differenza che con una spazzola così grande abbiamo la possibilità di lavorare e prendere tutti i capelli allo stesso momento il movimento è facile perché quando andiamo ad asciugare diamo un giro alla spazzola ok e poi passiamo ma andiamo a segnare delle s ok e quindi a questo punto abbiamo la onda la cosa fantastica che questo questa spazzola è fatta di un metallo anti adierente normalmente noi usiamo prodotti e quindi che si attaccano alla spazzola invece questa spazzola rimane sempre pulita a parte che è una spazzola abbastanza leggera e che mi aiuta a fare questo tipo di lavoro il manico è antiscivolo e quindi riesco a fare questi movimenti belli veloci e scivolosi ecco vedi come le onde sono differenti sono molto più morbide a differenza di una piastra che lascia il capello molto più segnato quindi oggi la tendenza è questa semplice con movimento e volume ok come vedete questo è il risultato lucido morbido un effetto fantastico grazie a tutti